Cosa intendiamo per evento in JavaScript? Ci sono molti diversi tipi di evento che possono verificarsi, qui vedete una lista, sono veramente tantissimi che hanno a che fare con i device che utilizziamo, come le periferiche, tipo la tastiera, il mouse, ma anche altre cose, come le posizioni in cui muoviamo il puntatore del mouse. Forse uno dei più, o forse addirittura il più comune è il click event, quindi l'evento del click del mouse, soprattutto del tasto sinistro del mouse, perché questo è l'evento con cui più interagiamo sulle pagine web, sulle web apps, ma anche sugli smartphone. Alla fine il click corrisponde al cliccare col dito sul touchscreen del device. Quindi ci sono un sacco di possibili eventi, come sempre, con queste cose. Su centomila possibili alternative solo alcune ci servono e quelle che ci servono le impariamo ad usare. Quindi ho creato qui un tasto, un bottone, una casella di input e qui a fianco un paragrafo, mi pare, un H2. Ci ho applicato un po' di CSS, che vedete qua, per metterli con questo layout. Magari ecco, per rinfrescarvi un po' le idee, potete fermare adesso il video e cercare di ricostruire questo layout, o magari se volete cambiarlo, cambiatelo. Perché se non si usa per un po' l'HTML, soprattutto il CSS, ci si dimentica e quando lo si riprende in mano sembra di essersi dimenticato tutto. È una cosa che capita a tutti gli sviluppatori, ma basta poco, insomma, per rinfrescarsi la memoria. Comunque, brevemente, ho aggiunto un'altra section sotto questo header qua. Qua, vedete questa section, ho dato a ciascuna cosa un ID, perché poi li useremo, quest'ID, in JavaScript. E all'interno di questa section ho messo un input, che è questo che vedete qua, un bottone qua, e questo H2. E adesso queste cose le utilizzeremo. Nel CSS, semplicemente, li ho messi uno a fianco all'altro, per arrivare uno sopra l'altro. Gli ho dato dei colori, del padding, eccetera. Queste cose potete vedervele voi o copiarle come le mie, insomma, non importa. Ad ogni modo, andiamo sul JavaScript e vediamo un po' come gestire gli eventi. Quindi, il modo in cui lo facciamo è con un metodo chiamato addEventListener, che adesso vi faccio vedere. E ammettiamo, semplicemente, di voler fare che, quando clicchiamo su questo pulsante, ci fa il console log di qualcosa, di una stringa. Ok? Cominciamo con questo. Come dobbiamo fare? Prima di tutto dobbiamo indicare il pulsante, questo tasto, come abbiamo visto finora. Quindi, dobbiamo fare Document, QuerySelector, e poi dobbiamo andare a prendere, in questo caso, l'ID che io ho dato. Quindi, il bottone, vedete, ha l'ID di AddButton, AddBTN. Ok? Quindi, in questo modo, noi andiamo a indicare questo oggetto del DOM. Dobbiamo metterlo sempre, tra virgolette, e, in questo caso, con l'hashtag, perché è un ID. Ok? Poi, andiamo a dirgli, ok, a questo elemento, a questo bottone, applica questo metodo. AddEventListener, ok? Scritto così, in camelCase. Tradotto dall'inglese è, aggiungi un ascoltatore di evento. Ok? Listen, ascoltare, evento, event. Poi, dobbiamo mettere, questo è un metodo, quindi le parentesi, e all'interno richiede due argomenti. Quindi, il primo argomento è l'evento che deve ascoltare, nel nostro caso è il click, quindi scriviamo click, ok? E questo evento si chiama click. Questa non è una variabile, è un nome specifico che indica quell'argomento. Il secondo di questi parametri deve essere, invece, una funzione, che scriviamo in questo modo, function, parentesi, e poi parentesi graffe, ok? Quindi, una funzione anonima, qui all'interno dell'EventListener la funzione la dobbiamo scrivere o in questo modo con l'arrow function, non possiamo scriverla in questo modo qua, function, poi mai il nome della funzione, in questo caso mai function, parentesi, e poi parentesi graffe, ok? No, dobbiamo scriverla come funzione anonima o come arrow function, che vediamo dopo, e quindi la scriviamo in questo modo. Ad ogni modo, qui, all'interno del corpo della funzione, quindi qui dentro, ad esempio andiamo a mettere, facciamo console.log della stringa click, ok? Salviamo e andiamo a vedere, quindi se io faccio push, a ogni push, vedete, lui mi fa il log della stringa click, più volte lo schiaccio e più log mi fa, quindi 14. Come funziona tutta questa cosa qua? Vediamola un attimo qui, allora, in pratica, questo è il codice che abbiamo scritto su VS Code, quello che vuol dire, come vi ho appena fatto vedere, magari qui in modo grafico si capisce un po' meglio, quindi tutto questo blocco qua vuol dire che prendi questo bottone, ok? Che io devo indicare in questo modo, poi tramite l'event listener aggiungi, quindi questo event listener, che ascolti per un click, che stia attento per quando viene fatto un click, dove ha questo bottone, ok? E poi, ad ogni click esegui questa funzione, questa è la sintassi di questa roba qua, ok? Quindi, in questo modo, a ogni click facciamo un console.log. Ora, mettiamo, invece di voler fare, invece di fare il console.log di una stringa normale, di voler fare il console.log del numero che scriviamo qui dentro, ok? Come facciamo? Questo lo possiamo cancellare e dobbiamo dirli di andare a fare, beh, questo magari non lo cancello perché devo comunque scrivere qui dentro, di fare il console.log invece che di click, di che cosa? Di quello che c'è qui dentro, quello che c'è qui dentro lo scrivo così, document, ok? Ok? Punto, sempre query selector, e poi cosa sarà? Sarà il, devo andare a prendere l'id dell'input, che ce l'ho qua, input, l'id è questo qua, input number, quindi virgolette, hashtag, input number, quindi prendi questo input e fai il console.log, ok? Ora, vediamo cosa succede se lo faccio così. Se salvo, io qui dentro metto il numero, 23, se clicco qui, lui non mi fa il console.log del 23, ma dell'oggetto. Come abbiamo visto, questo qui corrisponde all'oggetto rappresentato nel DOM, ok? Io voglio fare il console.log di questo valore, invece. Questo valore dove lo trovo? Ora, per farvelo vedere, qui cambio, metto console.dir invece in console.log, così vediamo l'oggetto in sé, quindi se ora salvo, qui metto il numero, faccio push, mi fa il console.dir di quell'oggetto, e all'interno di quell'oggetto, se vedete, cerco quel valore e si trova all'avv, qui in basso, la proprietà value, ok? Infatti vedete che al momento è 22. Questa proprietà value indica il valore che è correntemente scritto all'interno dell'input, della casella di input, in questo caso 22. Quindi come faccio per prendere la proprietà di un oggetto? Devo mettere il punto, quindi punto value, proprietà value. Ora, tutta questa roba qui, invece, corrispondere all'oggetto input number, corrisponde al valore che è in quel momento contenuto in quell'oggetto, quindi 22. Ora andiamo a vedere, quindi, invece che console.dir facciamo console.log, perché lo faccio di un valore, salviamo, qui scrivo un numero, posso usare anche le frecce, ad esempio 5, e se clicco, vedete, mi fa il console.log di 5, ok? Se clicco ancora me lo fa ancora. Se cambio numero mi fa il numero che c'è al momento dentro la casella di input, qui sotto, ok? Ora facciamo uno step successivo, ad esempio voglio che quando clicco su questo bottone, questo numero, invece che metterlo nella console, venga messo qui, all'interno di questo h2. Come devo fare? Devo andare a modificare l'oggetto h2, ha la sua proprietà text content, che abbiamo visto nel video precedente, quindi tolgo il console.log, così, questo me lo posso tenere per adesso, vado in basso qua, quindi in pratica devo prendere questo h2 e metterlo uguale a questo valore qui, che è questo che ho scritto qui sotto, ok? L'h2 come lo prendo? Sempre allo stesso modo, document, query selector, poi all'h2, ho dato questo id, result, poi devo andare alla proprietà text content, perché devo modificare quella proprietà lì io, quindi il contenuto, perché sennò è tutto l'oggetto, invece questo qua è il contenuto, che all'inizio qui il contenuto è questi quattro zeri, però io vado a modificarli, quindi cosa li do come contenuto? questo uguale è questa roba qua, quindi questo lo tolgo di qua e lo metto sopra, così dovrebbe andare, ok? Salvo e vediamo se funziona e me lo mette qua, se lo cambio, clicco e me lo cambia, ok? Quindi ha funzionato. Ora ammettiamo che io voglia fare una cosa, ad esempio ogni volta che clicco su push, lui mi somma il numero che ho nell'input a questo qui, quindi questo diventa una specie di totale di tutto, che inizia da zero, perché io adesso se qua faccio il reset e la pagina, se faccio il refresh, lui inizia da zero, ok? Per fare quella cosa, come devo fare? Allora, un modo in cui posso farlo è creare una variabile chiamata, ad esempio, total, totale, però questa variabile, se io la metto all'interno di questa funzione, perché io adesso, non dimenticatevi, ma sto lavorando, creo un po' di spazio per farvi vedere, anche se poi Prittier me lo toglierà questo spazio quando salvo, quindi io sto lavorando all'interno della funzione, ok? Questo è il corpo della funzione, quindi questa funzione viene eseguita ogni volta che faccio clic. Se io qui dentro metto una variabile col totale, ogni volta che io faccio clic questa variabile viene ricreata, ad esempio, se io faccio let total uguale zero, perché all'inizio questo deve essere zero e poi voglio aggiungere, ok? Se però la metto qui all'interno, ogni volta che eseguo la funzione, lui ritorna ancora a zero, mentre io voglio che questo si conservi un po' questo stato, quindi per fare ciò lo devo mettere fuori, qui fuori, ok? Quindi lui inizia, me lo pone a zero e dopo esegue la funzione tutte le volte che clicco, ma non mi rifà questa cosa qua, non mi riesegue questa linea di codice, la fa solo all'inizio, quindi bisogna metterlo fuori. Ora, per andare a sommare ogni volta, non mi resta che scrivere qui total più uguale, quindi ci vado a sommare a total, che cosa? Questo qua, il valore dentro l'input, quindi questo lo tolgo da qui, lo metto qua, ok? Quindi ogni volta che esegui la funzione vai a sommare a total questo valore e poi voglio che questo total, che è stato aggiornato, tu me lo metta qui dentro l'h2, quindi dentro qui. Quindi per far ciò devo porre tutto questo h2 uguale a total, ok? Così. Vediamo se funziona, se salvo, qui ad esempio scrivo 24, faccio push e me lo mette 24. Se continuo a fare push non me lo mette, non me lo aggiunge, come mai? Non me lo aggiunge perché qua ho sbagliato e non so perché questo è più uguale, io ho scritto uguale più, ok? Ora dovrebbe funzionare, vediamo. Quindi 23, ok, me l'ha messo il primo. Se io clicco ancora push, vedete, non mi fa 23 più 23 è 46, mi aggiunge il 23 in coda e se continuo a mettere push me ne mette tanti. Come mai fa sta cosa? Fa sta cosa perché come nel prompt, anche negli input, qualsiasi cosa io metto all'interno di un input, viene automaticamente trasformato in stringa. Quindi questo 23 non è considerato un numero, è considerato una stringa. Quindi quando sommo delle stringhe vengono messe una in coda all'altro, ok? Cosa devo fare? Devo prendere il valore 23 quando arriva dall'input e trasformarlo in numero. Per fare ciò, quindi, il valore è questo, è questo qua, lo metto tutto tra parentesi e davanti ci metto number. In questo modo lo tipizza, lo trasforma in tipo numero, ok? Se salvo, ora andiamo a vedere se funziona, 25, 50, ok, ora funziona, ok? Se cambio numero, mi sommo un altro numero, così. Quindi, ora farò qualcosa per rendere tutto più chiaro. Questo va benissimo, questa funzione così, non è scritta male. Però si può rendere tutto più chiaro alla vista, soprattutto se stiamo imparando, ok? Quindi, per far ciò, cosa faccio? Vado a costruire delle variabili a cui assegnerò, ad esempio, i vari elementi, ok? Questo qua, ad esempio, è il bottone. Questo qua. Sto dicendo, prendi questo bottone e utilizza questo metodo su questo bottone. Questo qua, io invece che scriverlo così, posso scriverlo come variabile. Quindi, const, qui const, perché comunque questo non cambia mai. Qui ho messo let, perché il totale cambia. Const, ad esempio, button, uguale, e gli do questo, ok? Così. Quindi questo è il mio bottone. Io ora qui, invece di questo, vado a mettere la variabile button, ok? Quindi si capisce un po' meglio. Add event listener al bottone. Vediamo se funziona. Prima di andare avanti, funziona. La stessa cosa posso fare, ad esempio, per questo qua. Ok? Questo è l'input. Quindi, prendo questo, creo una variabile chiamata input e gli assegno quella roba lì. E qui, invece che questo, metto input. Così. Qui devo togliere questa parentesi. Ok. Sempre testiamo dopo ogni passaggio, che non si sa mai. Ok? Funziona. E poi, questo è invece l'h2, ok? Anche questo, qui fuori, qui fuori, posso chiamarlo, ad esempio, output. Anche questo const. Così. E qui, metto output. E funziona ancora, ok? Quindi, ora, l'event listener è più facile da leggere, perché capisco subito che, prima di tutto, che avviene sul bottone. Poi, se non so qual è il bottone, vado qui a vedere qual è il bottone e quello con questo id, ok? È lo stesso qui per dove avviene l'output, eccetera. In questo modo, secondo me, è più leggibile il codice. Un'altra cosa che posso fare è questa funzione, scriverla, invece che così, scriverla come error function, quindi semplicemente parentesi, e dopo la freccia. Ok? Così. Questo è la stessa identica cosa. E, infatti, funziona tutto. Ok? Quindi, se non avete capito tutto, provate a rifare, a cancellare questo e a rifarlo dall'inizio. Magari prima scrivendolo, o magari scrivendolo direttamente anche in questo modo, se vi viene più semplice. Una cosa importante è scriverle queste cose, non fare copia e incolla, oppure semplicemente ricopiando dallo schermo pari passo. Ma vi accorgete adesso che se voi fermate il video, spegnete il video, cancellate questo e riprovate a farlo da soli, vi accorgerete che non è così facile come sembra. Magari avete capito tutto in questo momento, i concetti, però è come se le vostre dita devono avere quella che si chiama muscle memory, questa memoria dei muscoli un pochino, sulle cose da digitare. E quindi ecco, magari fatelo anche due volte dall'inizio, magari una volta creando le variabili, una volta senza, per fare pratica. Ok, ci vediamo nel prossimo video.